buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere assieme come poter monetizzare i passi che facciamo durante la giornata durante la settimana utilizzando una applicazione semplicissima intuitiva che si chiama step drop step drop è stata creata dal team dell'exchange young platform e viene utilizzata per l'appunto per poter riscattare i nostri passi e ottenere così tocco in utility dell'exchange il token young in più veniamo pagati anche per rispondere a dei quiz quindi accrescendo alla nostra cultura generale nel mondo delle cripto valute e nel mondo della block chain andiamo a conoscere l'applicazione step drop e il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla young platform oramai non ha più bisogno di presentazioni nel panorama italiano esiste da diversi anni e non solo è diffusissima tra gli utenti criptomani per chi non conoscesse questa società young platform spa è una start up fintech di torino che ha il focus sul mercato delle cripto valute è stata fondata nel 2018 da sei studenti di informatica dell'università di torino accomunati dalla passione per la tecnologia block chain sin dalle scuole superiori di cripto valute questi sei ragazzi hanno creato questa azienda fintech che ha come gol come missione principale quella di semplificare l'accesso al mondo delle cripto valute attraverso un hub di prodotti che rispondono alle esigenze di diversi segmenti di utenti dal principiante all'esperto in tre anni di attività ha visto la community crescere e arrivare a raggiungere quasi 300 mila utenti faccio volentieri video dedicati a questa azienda fintech perché la loro missione e anche possiamo così dire la mia missione nel senso che entrambe sia io che loro abbiamo come obiettivo di semplificare l'accesso al mondo delle cripto valute da partire dai principianti da chi si avvicina a questo mondo per la prima volta e pian piano portarli al livello superiore dedicare poi dei servizi in questo caso per quanto riguarda me dei video un pochino più per esperti vi ho già parlato di questa applicazione che si chiama step drop in alcuni video che ho già fatto ho toccato l'argomento in modo veloce oggi andiamo un pochino né più nel dettaglio step drop è un'applicazione disponibile per androide per ios che vi permette di guadagnare cripto valute in questo caso il token young camminando ma soprattutto approfondendo le proprie conoscenze seguendo un academy rispondendo e quiz e puntando sull'andamento dei prezzi di una cripto valuta tutte queste attività racchiuse non unica applicazione permette di guadagnare gratuitamente la cripto valuta young abbreviata con y ng che appartiene all'azienda come abbiamo visto nel video precedente è un tocco in utility dell'azienda che viene usato per premiare chi ammina in questo caso viene usato per premiare chi risponde in modo corretto a dei quiz o all'andamento positivo negativo delle cripto valute tutte queste attività contenute all'interno di un'unica applicazione permette di guadagnare gratuitamente il token young come abbiamo visto nei video precedenti permette anche ai token holder di avere degli sconti importanti sulle fee dell'exchange per incentivare l'accumulo di questo token young e quindi di invitare le persone a prendere confidenza con un primo chiamiamolo così wallet cripto e sensibilizzare sul loro valore step drop consente di accumulare young riscattando i passi compiuti durante l'intera giornata una volta raggiunto un obiettivo di accumulo ben stabilito adesso andremo a vederlo nell'applicazione ci verrà permesso di inviare il nostro token all'interno dell'account che abbiamo creato sull'exchange young platform per avere degli sconti immediati sull'ifii utilizzando l'exchange una volta scaricata dall'applicazione avviamo step drop e ci troveremo davanti a questa schermata anche questa applicazione come l'exchange molto semplice pulito e intuitivo in alto a sinistra vedete 26,13 che il totale di young che ho ottenuto camminando o risolvendo alcuni quiz cliccando sul tasto utilizza noi potremo andare a inviare il nostro token young all'interno dell'exchange young platform ovviamente collegato al nostro account una volta che avremo raggiunto almeno 45 token all'interno dell'applicazione step drop allo stesso modo cliccando sempre col tasto utilizza possiamo ottenere del cash back in toky young andando a fare i nostri acquisti presso i negozi convenzionati come vedete ce ne sono veramente tantissimi da nike guest decathlon e così via tornando nella home page in alta destra notate un cuore con il numero 3 il numero 3 sono le vite che noi possiamo utilizzare per andare a partecipare dei quiz e ottenere così dei token young aggiuntivi come vedete nella home alla voce quiz block chain ci viene permesso di ottenere due toky young partecipando a questi quiz e rispondendo in modo corretto alle domande che ci vengono poste ovviamente cliccando su un quiz abbiamo la possibilità di leggere un articolo che ci insegna l'argomento e poi successivamente partecipare all'evento se perderemo delle vite non dobbiamo preoccuparci perché le andremo a recuperare successivamente sempre la home page possiamo andare a vedere l'andamento del mercato delle cripto valute che sono listate nelle change young platform semplificata scrollando verso il basso abbiamo la sezione news molto importante che ci permette di essere sempre aggiornati sulle notizie del momento in lingua italiana e la classica e importantissima sezione dell'accademia la sezione accademia non è per niente da sottovalutare perché sempre in lingua italiana possiamo andare a leggere imparare nozioni importantissime sulla blog cene e sulle cripto valute senza dover andare a tradurre articoli in lingua straniera e traducere in lingua italiana è un servizio veramente utile messo a disposizione dal team di young platform in basso nell'applicazione cliccando la voce classifica noi possiamo andare a partecipare degli eventi settimanali creati dagli utenti oppure creare noi stessi una nuova classifica un nuovo evento dove permetterà di sfidare gli utenti della community e andare così anche guadagnare dei token young e messe a disposizione una sezione molto succosa è il tasso centrale alla voce step drop dove ci è permesso di andare a fare il clima nei nostri passi raggiunti i 4000 passi come potete vedere oppure anche acclamarli ogni volta che raggiungiamo i mille passi possiamo guadagnare dei token young partecipando alle sfide come ad esempio vincere due previsioni o riscattare 10.000 passi ogni giorno abbiamo degli obiettivi da raggiungere e una volta raggiunte noi andremo a ottenere la porzione di token young che ci viene dedicato a quella sfida andando alla voce invita amici possiamo condividere referral link dell'applicazione e per ogni amico o parente che andiamo a iscrivere noi andremo a guadagnare un token young direttamente nell'applicazione di step drop cliccando a fianco al tastino step drop su up and down andiamo a partecipare alle previsioni decidendo se polka dot bitcoin ai tiri omo in un determinato periodo di tempo potranno salire o scendere così andando a sbloccare i token young delle sfide più a destra come abbiamo già visto alla voce marketplace possiamo andare a acquistare all'interno di questi store per avere il cash back in token young siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ma soprattutto ad unire la nostra community telegram per rimanere sempre contato con me con i ragazzi del team e con tutti i membri della community noi ci vediamo domani ciao a tutti